I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 19enne di Ponticelli già noto alle forze dell'ordine. Il giovane insieme ad un complice ancora in fase di identificazione è ritenuto gravamente indiziato da una rapida e impropria commessa in piazza Garibaldi ai danni di una trentenne a passeggio sul marciapiede. Il 19enne era alla guida di uno scooter e il passeggero ha guantato il cellulare della vittima che nel tentativo di trattenerlo è stata trascinata per diversi metri. I due rapinatori sono poi fuggiti sfruttando anche aree pedonali della piazza. I militari in transito con un'auto civetta hanno inseguito i due fino al quartiere Forcella dove sono stati costretti ad abbandonare lo scooter. Le loro tracce si sono perse ma un'impronta digitale rilevata sul contachilometri del veicolo e la visione delle immagini di videosorveglianza hanno consentito ai carabinieri di identificare uno dei due. È stato individuato e sottoposto a fermi in attesa dell'udienza di convalida. Continuano le indagini per intracciare il complice.